Il ponte su Rio Carona, lungo la strada comunale di Seminò, al confine tra i territori di Ziano e Borgonovo, verrà finalmente ristrutturato. Ad oltre un anno dalla bomba d'acqua che nel mese di aprile del 2018 aveva messo in pericolo la stabilità del manufatto, con conseguente divieto di passaggio per i mezzi pesanti, ora i due comuni valtidonesi hanno ottenuto un finanziamento di 50.000 euro a testa per poter avviare la messa in sicurezza. Ad occuparsene sarà il comune di Ziano, capofila, il quale a breve affiderà la progettazione propedeutica all'avvio del cantiere vero e proprio, che si spera, ma si tratta di una previsione molto ottimistica, di far partire prima della vendemmia. Via Seminò è infatti parecchio utilizzata dai viticoltori della zona, che durante il periodo della raccolta se ne servono per trasportare i carichi di uva. Abbiamo coinvolto il servizio tecnico di Bacino per fare questo intervento di consolidamento e ristrutturazione del ponte sul rio Carona. È un intervento che appunto si rende necessario per la pericolosità anche del tratto e anche per il fatto che comunque questa via di comunicazione porta a Ziano e col comune di Borgo Novo. Il ponte non verrà demolito, ma ne verrà costruito praticamente uno nuovo sopra? Esatto, utilizzeremo il sistema che è stato utilizzato in parte dalla provincia sul tratto di via Ziano lo scorso anno. Sul ponte esistente verrà costruito un altro ponte.